Un sito web, un nuovo mando per l'assegnazione di contributi, una proposta di legge di promozione e sviluppo. Al centro di queste iniziative della Regione Toscana ci sono le cosiddette cooperative di comunità, che qui vedete riunite nella sede della Giunta regionale per un evento di bilancio e orientamento che si è svolto al termine di un periodo di sperimentazione. Nel giro di pochi mesi, di cooperative di comunità ne sono nate moltissime, in zone marginali e montane della Toscana e quindi ad alto rischio di spopolamento. Ormai è diventata una rete di, io li chiamo, motori pensanti sul territorio, che oltre a nascere ora possono essere soggetti che fanno progetti per lo sviluppo del territorio dal basso e quindi possono avere la possibilità di accedere anche a eventuali supporti, risorse. La proposta di legge allo studio della Giunta punta a promuovere e sviluppare ulteriormente il sistema cooperativo della Toscana. Prima abbiamo deciso di farci un'esperienza e poi di fare una proposta di legge che parli di questa realtà e provi a rafforzarla, allargarla, a farla essere presente non solo nei territori e nelle aree interne, ma anche per esempio come strumento e può essere adatto per risolvere i problemi delle periferie e delle città più grandi. Grazie.